Ciao a tutti i burloni sono Marci e benvenuti in questo nuovo video di Clash Royale Oggi ragazzi sono tornato per fare un chest opening molto figo perché oggi ragazzi apremo veramente tantissime chest Allora vi dico subito che l'account del mio ma è di un ragazzo di nome Andrea che fa parte del clan di Clash Royale Che appunto mi ha detto perché non fai un chest opening con tutte le cose che ho io ho detto ma va bene perché non farlo c'è un botto di roba Facciamolo e ragazzi nulla oggi faccio questo chest opening spero di trovarli qualcosa di figo perché è il mio primo baule leggendario Che aprirò e sarà veramente una figata noma Lasciate un like per un nuovo video di Clash Royale questa settimana sarei davvero contentissimo se superassimo i 5000 like Proviamoci quindi lasciate un like Eccoci qua ragazzi sull'account del buon Andrea che fa parte appunto dei made aboli Io direi di partire prima di tutto proprio Shally Partiamo con la crown chest che vabbè ci sta un botto vediamo magari trovano qualcosa di figo 575 di gold 3 gemme 7 spiriti del ghiaccio Lorda di minion 13 Le frecce 48 E il gigante 8 Un po' una merda questa crown chest però fa niente Io voglio chiedere perché ce l'ho in inglese voglio metterlo in italiano Me lo fai mettere in italiano? Grazie Guarda Abbiamo reloadato in italiano Paparapapapa Ora ragazzi direi di lasciare ultimo il buon leggendario In ordine facciamo tutti Poi ora ovviamente abbiamo anche un baule delle sfide Ecco ovviamente 7 vittorie su 12 Io vorrei aprire questo qua quasi quasi per primo Anzi no Andiamo con quelli semplici Con quello d'oro Oro Mortaio Spiriti del fuoco Lorda di sgherri E il moschettiere Che non credo che usi Vediamo il mazzo che usa il bomber Il primo è molto simile al mio con Barbaricelty Solo che lui ha due leggendari in più E ha il golem di ghiaccio Che non vedo l'ora di avere Cioè qualcosa di L'ho provato da molti fan Che mi hanno fatto provare al Torino Comics Ci sta un botto Passiamo subito Ad aprire Il Baule Delle 7 vittorie Andiamo subito Vediamo cosa troviamo Allora 720 di oro 8 orne di sgherri 19 barbari E la capanna goblin Un po' Un pochino Un po' è una merda sta cosa Però vabbè fa niente Ci sta un botto lo stesso Ora andiamo di baule epico E poi Magico dopo E finale Facciamo il leggendario Allora pronti raga Abbiamo il bocciatore 3 E ci sta Il golem 4 Le guardie che non usa 5 E la clonazione Che non avevi ancora trovato Bomber Ti ho trovato la clonazione Che vorrei un botto provare Perché mi hanno fatto una combo devastante E anzi Ditemi voi Un mazzo Che si potrebbe usare Bene Con la Appunto la La come cacchio si chiama Insomma la clonazione Perché avevo trovato Un mazzo contro Devastante ragazzi Che praticamente Mi ha messo Un gigante Avete pensato i giganti Gli scheletri giganti Ha usato la clonazione Quando proprio stava per morire Ovviamente ti dà uno di vita Però ha lasciato le due bombe Ma ha distrutto tutto Ha fatto veramente Un disastro incredibile Madornale Che manco ti immagini Però ci sta Ci sta lo stesso Ci sta un botto Vai Andiamo con gli ultimi due ragazzi Baule magico Baule magico Bomber lo so Non sono stato oscurato al massimo Comunque vediamo se magari ti trovo qualcosa di buono qua Razzo per due Cinque sottori di elisir Trentotto scariche Quarantotto orde di sgherri Sedici torri infernali Un cucciolo di drago E ti ho trovato una leggendaria Nel baule magico Drago infernale Oddio Un botto Non so se lo stai usando Bomber Il drago infernale Però cacchio Allora vediamo Vediamo se non ce l'hai nessun deck Vero il drago infernale Che top Però ti ho trovato la leggendaria lo stesso Non lo usi Però dai magari Faccio un massimo Per dire Questa me l'ha fatto Marci E niente Raga Adesso Baule leggendario Abbiamo la leggendaria Ovviamente al 100% Però una cosa che dobbiamo Assolutamente fare È trovare una leggendaria O che non ha mai trovato O una di quelle che usa Spero Quindi 3 2 1 Boom Vediamo un po' che cosa trovo Lo strego di niente Lo strego di niente Come l'ho trovato subito così Andrea Spero che tu sia contento Di questo chest opening Perché è davvero Devastante Io ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto È stato un pochino più corto Perché abbiamo un chest opening così Lasciate un piaccio e un commento E noi ci vediamo In un prossimo video Da Marci è tutto Da Marci è tutto